Il calcio incontra l'arte per rendere omaggio al terzo scudetto del Napoli. Goal è il titolo della mostra collettiva organizzata dalla Fondazione Morra Greco con il supporto della Regione Campania nell'ambito delle attività di EDI Global Forum. Dieci artisti partenopei raccontano il tema del Goal da prospettive differenti attraverso sculture, installazioni e opere pittoriche. Ascoltiamoli. L'opera si intitola Il rettangolo magico dove raccolgo una sintesi di un luogo trascorso negli anni precedenti e oramai abbandonato. Il titolo dell'opera è imprevisto. L'opera è composta da una rete regolamentare di calcio da serie A a cui ho modificato le parti alari e la traversa. All'interno di questa rete che ho preso in considerazione perché ho fatto un ragionamento sull'idea del calcio ma anche della città di Napoli, che ha molto a che fare con un'irrazionalità e con un'idea di imprevisto. La mostra richiama in pieno i valori della Fondazione Morra Greco da sempre a supporto dei giovani artisti. Sentiamo il presidente Maurizio Morra Greco. Cerchiamo di interpretare come tanti hanno fatto un sentimento popolare ma che è di tutti noi, che omaggia questa squadra, questo evento. Mi sembrava giusto che lo facessero artisti del territorio, artisti campani, napoletani che rendessero omaggio attraverso la loro arte a questi straordinari eroi.